Fase 2. Le novità del prossimo DPCM in attesa che venga pubblicato il nuovo decreto è con breve riepilogo sulla fase 2. Da lunedì 27 aprile potranno ripartire le imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività sia rivolta prevalentemente all'export, le aziende del comparto costruzioni per i soli cantieri di opere pubbliche su dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria. Lo potranno fare solo se in condizioni di rispettare i protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro firmati dal governo e da tutte le parti sociali sui due settori tre giorni fa, il 24 aprile. Inviando una comunicazione ai prefetti. Dal 4 maggio al 17 maggio sottolineatura spostamenti sottolineatura prevista la possibilità di far visita ai familiari e congiunti. Consentita la ripresa dell'attività sportiva anche lontano da casa, sempre individualmente e comunque a distanza di almeno due metri. Ripresa allenamenti sport individuali professionistici o riconosciuti tali dalle singole federazioni. Consentite le passeggiate con i figli o con persone non autosufficienti, possibilmente con dispositivi di protezione individuali e a distanza di almeno un metro. Parchi e giardini pubblici potranno riaprire con ingressi contingentati e obbligo di dopi ristoranti e bar consentito le modalità di vendita da asporto oltre che di consegna a domicilio. Quando gli studenti e i lavoratori o chiunque è rimasto bloccato in un'altra città dall'inizio del lockdown, potrà fare ritorno a casa. Riapertura delle imprese e dei distretti del settore manifatturiero. Mascherine nella fase 2 L'uso della mascherina sarà obbligatorio nei casi in cui non è possibile garantire la distanza di sicurezza, sui mezzi pubblici, nei negozi, dal parrucchiere, nelle visite mediche. Il governo ha annunciato che i prezzi saranno calmierati, anche con l'eliminazione dell'IVA. Ad esempio, le mascherine chirurgiche potranno essere vendute a massimo 0,50 euro. Funzioni religiose dal 4 maggio si potrà tornare a celebrare i funerali, ma solo alla presenza di non più di 15 persone, obbligatoriamente dotate di mascherina. Ancora stop alle celebrazioni delle restanti celebrazioni liturgiche. Dal 18 maggio riapertura di negozi, commercio al dettaglio, e uffici a patto di garantire le condizioni di sicurezza musei e biblioteche che dall'1 giugno riapertura parrucchieri e centri estetici, solo su appuntamento, riapertura di bar e ristoranti, con precise modalità organizzative che assicurino la sicurezza delle persone, via ad allenamento sport collettivi.